Sto sudando Hakuna matatara Cazzo Benner ritrovati dal vostro Accaldatissimo Siamo tornati in un nuovo vlog Oggi parleremo di alcune cose che sono Accadute e alcune cose che sono Alcune cose che sono particolari Quindi ragazzi mi raccomando Signori La cosa più importante di tutte A quanto pare Un ladro ha cercato Di Entrare dentro casa Come è successo? Ha provato a spaventarci Aspettate un attimo ragà perché So fracico Mamma mamma Madonna ciccio Madonna ciccio Madonna cesso Allora Praticamente Qualcuno ha applaudito due volte Fuori al balcone Non è possibile E la cosa strana È che stiamo facendo i lavori sul balcone Di casa E c'è l'operaio che ha bucato Non è possibile Hanno trovato un sacco di chiodi Davanti al cancello di casa nostra Non è possibile Non lo so quello che sta succedendo Magari sono due coincidenze Magari non è successo niente È stato un rumore del congelatore C'è presente quando si ghiaccia O si rompe il ghiaccio E fa Tata 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 Non è possibile Non lo so Però hanno trovato anche dei chiodi davanti All'accesso Sono solamente cazzata E poi vi farò sapere E poi vi farò sapere Perché sto schiumando così tanto? Perché mi si è rotto l'accesso? Sono esploso Non vi dico di che cosa Puzzava Io mi si è rotto l'accesso E niente Una merda E chi si è visto? Si è visto I baguri mi arriveranno Entro il 15 Barra 30 Barra E Barra 1 Barra 3 4 Barra Barra 900 Barra Sto sudando Cioè sto sudando Davvero davvero tanto Ammazza che figo Quindi Io vi ho raccontato un po' tutto Se avete domande Scrivetemele qua sotto Se avete qua sotto Scrivetemele domande Magari possiamo fare anche Un fuck you Tata Ragazzi S transformer S hacen identally Giuseppe 1 Scrivetemele AHHHHH AHHHHH